Tutti, da 30 anni fa adesso, sono da meno della metà della popolazione. La natura ci soffoca, ci stringeci. Non 4-5 anni, ma in 30 anni, magari il ski sarà 2 mesi in l'anno, non più 4. Come potete vivere 12 mesi con 2 mesi di lavoro? La natura ci soffoca più di 500 mesi. Abbiamo di capire il glaceo per vedere se ancora salviamo una parte del glaceo qui si. È solo un paese, ma è il paese dove ci sono nato, dove ci sono cresciuto, dove ho gli amici, dove ho le montagne, i fiumi, ho i parenti, il lavoro, la famiglia, la scuola. Quindi è niente, ma è tutto per me. La vita non è solo fatta di denaro, la vita deve essere fatta di soddisfazione. Quei 4 giorni che ci abbiamo da vivere, devi stare bene con te stesso, se non può essere. Per me è successo, non può essere fatta di più, se non può essere fatta di più, se non può essere fatta di più. Non ciò che non ha fatto nessun senso. Il lavoro è più difficile, il Wettere è più extrema. Trotzdem è più libero al Bergero. Un tolbao non voglio nessuno. Come il Papa è sempre detto, che è arrivato da qualcosa di più. Irgendwie è successo.